Leo, mi racconti la storia del Topodopo? Ma avevamo finito o no? Il gatto panciotto si è arrabbiato, l'orologio magico è rimasto nel cassetto, Topodopo ha giocato ancora a calcio, ma soprattutto, come hanno fatto a incontrarsi Topodopo e Pantega prima? Devi sapere che ogni pomeriggio alle 6, il Topodopo e la Topina prendevano il treno per andare a casa. Topodopo arrivava sempre in ritardo, mentre lei arrivava sempre in anticipo, Lui sempre più in ritardo, lei sempre più in anticipo. Finché avvenne che lui arrivò 12 ore dopo, lei 12 ore prima e si incontrarono. Non ho capito niente! Come non hai capito? Se lei arriva 12 ore prima, che ora arriva? Io ho capito tutto! Ma come fa? Andate avanti nel tempo! No, è che... Sentirei non sentirei! Sentirei non sentirei! Io ho capito tutto! La vogliamo smettere!